Musica Dopo il pareggio contro la spalla il Cesena torna a vincere e lo fa rifilando al Ponte d'Era un poker dopo i primi 45 minuti di partita MVP del match Christian Spendi che nel giro di 8 minuti sigla una tripletta e continua a far volare il Cesena nel girone B Minuto 21 Garbo serve Spendi, destro piazzato, undicesimo gol in stagione pochi minuti dopo arriva anche il dodicesimo 26 sul cronometro, il colpo di testa di Garbo si stampa sul pallo Spendi è il più veloce e fa 2 a 0 e un paio di minuti dopo arriva anche la tripletta questa volta di testa sempre di Christian Spendi a chiudere il match proprio Garbo al trentasettesimo finisce 4 a 0 La torre si risponde al Cesena e si aggiudica il derby sardo contro l'Olbia nel segno del solito Manuel Fisnaller che sale in doppia cifra in campionato Il Perugia fa 3 su 3 nel 2024 battuta anche la Spallin rimonta perché a passare avanti sono proprio gli ospiti con Peda nella ripresa e tutto un altro Perugia all'ora di gioco prima Lisi pareggia, poi pass sale in cattedra e firma la rimonta per i suoi segnando il 2 a 1 così e pochi minuti dopo trova anche il col che chiuderà il match finisce 3 a 1 Il Pescara torna a sorridere e vince sul campo ostico dell'Arezzo succede tutto nel primo tempo con Merola che dagli 11 metri non sbaglia e porta avanti la squadra di Zeeman che però la mezz'ora si fa raggiungere da Gattini che firma l'1 a 1 da lì a poco Di Pasquale porta nuovamente avanti il Pescara che vince la prima gara del 2024 Il Gubbio supera l'ostacolo fermana e conferma l'ottimo momento di forma qui succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo fermo sullo 0 a 0 Di Massimo sposta gli equilibri tornando a segnare dopo tre turni Gubbio che trova il 2 a 0 con Udo e poi rimane in 10 uomini ma alla fine la squadra di Braglia porta a casa i tre punti L'Ancona torna a vincere dopo più di due mesi e lo fa vincendo sul campo del Pineto in una gara cruciale per uscire dalla zona play-out match sbloccato nel primo tempo da Energia che manda tutti a riposo sull'1 a 0 nella ripresa raddoppia l'Ancona con Spagnoli Ancona che si fa riprendere da Giambè ma il Pineto non riesce a pareggiare il match e vince l'Ancona Primo successo nel nuovo anno per la Lucchese che vince contro la Recanatese dopo due sconfitte consecutive grazie a una super prestazione di Andrea Rizzopinna che prima segna poco dopo la mezz'ora e poi raddoppia 5 dal duplice fischio mettendo subito in discesa il match per la Lucchese nella ripresa Caleltrisse Yeboah la Recanatese reagisce troppo tardi reagisce con Melchiorri all'ottantesimo finisce 3 a 1 sono 3 i match a finire 0 a 0 del girone B si tratta di Lispesaro-Carrarese Juventus-Next-Gen Rimini Sestri-Levante-Entella